Qual è la linea punta di quest'anno? Si tratta di un autogru a suo tempo presentato già al Bauma di Monaco, però per l'Italia è una prima assoluta, è la LTC 45 che ha la caratteristica di essere un autogru compatta, quindi di dimensioni molto ridotte, tre assi, con un braccio con molti sfili che consente di essere più piccolo e più corto e quindi ha la caratteristica di potersi infilare nei capannoni, in spazi molto angusti per fare dei lavori particolarmente difficili. Ed inoltre la caratteristica di avere la cabina sollevabile, cosa vuol dire questo? Che l'operatore può sollevarsi fino a una certa altezza per lavorare molto vicino al gancio, si parla di 7-8 metri di altezza, per vedere veramente cosa sta facendo molto da vicino. Queste sono le peculiarità e pensiamo che questo incontrerà sicuramente il gusto dei nostri noleggiatori, anche perché si tratta di una cosa un po' unica a sé, tutto qua. Grazie.